Le pagelle di Juventus e Inter Vi dico subito, sto scazzato Quindi aspettatevi dei voti de merda Cioè non saranno tutti de merda Però un po' si Onana Fa quella parata su Chiesa in fuorigioco Fa quella parata su Kostic I gol che prende, non so colpa sua Gli metto se, non gli posso nemmeno metterse più Perché abbiamo perso Skriniar Veniva da prestazioni buone Stasera non mi è piaciuto Sicuramente Non poteva intervenire molto Perché aveva il cartellino Riscato tanto Sul primo gol del Rabiu C'ha colpe, come se c'ha colpe? 5 Sono sicuro che se le prenderà il nostro capitano Speriamo Vabbè l'altro deficiente te le farai Te beccate 5 e mezzo Che ti devo dire Anche tu devi essere più reattivo Devi andare più veloce Acerbi Per assurdo io come sempre vi dico Acerbi non fa mai prestazioni insufficienti Nemmeno stasera ha fatto schifo E quindi gli vado a mettere 6 Oh Denzel Dunfris Denzel Denzel Un consiglio Dal Fabbro Te fai le mette piedi Fatti a sussare i piedi Che veramente Non sai di là in porta Barallo Ti ha messo quel grande assist E lì in mezzo Palla al centro Ti devi dire in porta Lì uno forte Di là in porta Visto che sei 2 Ti metto 4 Se no ti mettevo 3 Centro campo Di Marco Di Marco sull'altra fascia Nel primo tempo Ho messo dei grandi cross Mi ricordo uno Sulla testa dell'autaro Un bellissimo calcio d'angolo Che poi L'autaro battuta E poi Geco Quanto ti posso mettere a Di Marco Abbiamo comunque perso 6 e più Barella E' l'unico che ha fatto qualcosa E' l'unico che verticalizzava L'unico che prova a mettere qualche pallone al centro Non so se vi ricordate L'assiste per quell'altro Quello sponso De D'Umbris 6 e mezzo Becca adesso 6 e mezzo Mkhitaryan Fa un primo tempo Che era quello che mi è piaciuto di più Perché Mi ricordo quel grande pallone di Barella Tanti recuperi Però nel secondo tempo Mi è caduto un po' Mkhitaryan 6 e più anche lui Cianoclu 6 e mezzo Non doveva essere sostituito Non doveva assolutamente essere sostituito Mi ricordo il suo tiro Qualche assist E comunque Non capisco perché lo sostituisco Lautaro No Lautaro L'altro è bello mio Tu contro la Juventus Non segni mai? Non ti piace proprio Sta Juventus? Beh A te oggi Ti metto 4 e mezzo Ti metto 4 e mezzo Perché Non ti puoi mangiare quei gol Devi essere più preciso Ti metto la testa Perché devi vincere Perché la partita bisogna essere Ragazzi Dzeko non gli posso di niente A Dzeko gli metto 5 Però Se vede Quando uno è stanco Sta stanco Dzeko che gli devo dire a Dzeko Dzeko è giustificato Oh Gosens 5 Ti metto 5 Perché tu Quando entri Non puoi fare un cazzo Ha fatto anche la direzione Sarà pure sfortunata Però dai Brozovic E Bellanova SV Rea come di consueto Zero In Zag 5 e mezzo